Crypto.com per festeggiare gli 8 anni dell'anniversario ha lanciato una promozione molto interessante che permette di vincere ragazzi anche un intero bitcoin, ci saranno 8 premi e in questo video voglio parlarvene perché tutti possono partecipare facilmente lo farò anche io ovviamente, visto che utilizziamo spesso l'applicazione quindi in questo video voglio parlarvi di questa promo nello specifico ma soprattutto ragazzi ci sono tante news, la maggior parte negative per quanto riguarda le crypto che in questo momento stanno un po' perdendo percentuali ovviamente le altcoins perdono di più rispetto a bitcoin che è più capitalizzato però lo stesso siamo sul livello molto importante perché bitcoin è sui 61.000 dollari in questo momento per registro siamo sempre in questo range bianco che vedete qui tra queste due linee bianche da marzo ormai quindi è molto scocciante questa price action però lo stesso ragazzi ci sono tante novità importanti perché diciamo abbiamo visto il discorso di Powell per quanto riguarda l'inflazione, c'è l'ETF di Ethereum per quanto riguarda il listing, il trading effettivo dell'ETF su Ethereum che ancora non è stato avviato e questo fa un po' diciamo arrabbiare tutta la community di Ethereum ma anche per quanto riguarda la community e le altre altcoins perché si parla anche di un ETF su Solana se avete visto l'ultimo video non ho parlato quindi ragazzi adesso basta parlare inutilmente voglio subito andare al dunque però prima di iniziare lasciate un mi piace a questo video basta davvero un click e il gioco è fatto e se non siete iscritti un altro click e il gioco è fatto iscrivetevi per non perdervi nulla per quanto riguarda le criptovalute perché cerco sempre di aggiornarvi con notizie a riguardo Crypto Bubbles, già vi ho detto sono tutte cripto in rosso per adesso vediamo Pepe, Gala, Tao, Wave, vediamo Lido tutte le altcoins sono in rosso in questo momento c'è qualche nome positivo però niente di che non più 1% stiamo parlando vediamo anche i volumi che sono sui 55 miliardi di dollari che non sono così elevati rispetto a gennaio o febbraio quando l'ETF spot su Ethereum e Bitcoin sono stati lanciati vediamo una market cap a 2.26 trilioni di dollari e questa è la situazione adesso per il mondo cripto è un Fear Green Index, è un numero 48, zona neutrale ragazzi quindi siamo in questa zona incerta, in questo limbo però la situazione potrebbe cambiare subito e vi ricordo che domani il mercato statunitense il stock market è chiuso ragazzi, il mercato nazionale è chiuso poi abbiamo visto lunedì il mercato cinese essere chiuso quindi siamo un po' in questa zona dove in maggiori mercati hanno preso qualche pausa, i volumi sono scesi però abbiamo visto soprattutto un deflusso anche per quanto riguarda gli ETF infatti in questo post Marco di Mindchart che hanno un canale YouTube molto interessante sulle criptovalute ci fa un piccolo rassunto qui che è davvero interessante perché ci sono varie notizie da considerare per quanto riguarda sia gli outflow che sono avvenuti su ETF e spot su Bitcoin ovviamente ragazzi non possono esserci sempre in flow cioè persone che acquistano, enti che acquistano gli ETF e spot su Bitcoin ci saranno pure giorni in cui diciamo ci sono degli outflow quindi persone che, enti, persone, istituzioni che vendono ovviamente incassano i profitti, è normalissimo e ovviamente questo a Bitcoin non piace vorrebbe sempre ricevere entrate abbiamo visto un po' i deflusi stiamo parlando di 13 milioni di dollari che non sono tantissimi da parte diciamo di alcuni asset managers BlackRock in verità ha avuto un afflusso netto di 14 milioni di dollari quindi nessun problema ma il deflusso è venuto maggiormente su Grayscale che abbiamo visto già vendere parecchio in questi ultimi mesi poi abbiamo visto i minutes di Powell che ha spiegato che l'inflazione si sta migliorando però non è quanto vorrebbe e vuole aspettare ovviamente che ci siano miglioramenti maggiori per l'inflazione prima di abbassare i tasse di interesse il solito discorso ragazzi oh mio dio stiamo facendo questo ormai da mesi e mesi e spero che la situazione si muova perché è fondamentale vedere un po' di liquidità da parte dei mercati grazie al fatto che i tassi di interesse sono più bassi e speriamo che ciò accada poi il governo tedesco per chi non lo sapesse ha confiscato milioni e milioni di dollari in bitcoin in Germania e stanno ovviamente vendendo questi bitcoin e ieri hanno inviato 1500 bitcoin circa 95 milioni di dollari a vari exchange tra cui Bitstamp, Coinbase e Kraken quindi diciamo che questa strategia di vendita è iniziata in verità nel 2023 scusatemi e vedremo un ribasso sul prezzo di bitcoin perché vanno a vendere spot ragazzi e purtroppo succede però bitcoin ricordiamoci che è sempre su 60 mila dollari quindi tutta questa FUD che viene diffusa eccetera effettivamente poi non è che fa così male al prezzo di bitcoin ci sta una vera notizia positiva sempre però per quanto riguarda un po' ethereum spero che si muova la situazione in verità per le altcoins che dovrebbero mettere un po' i percentuali per recuperare il prezzo di bitcoin poi vediamo un'altra notizia importante che riguarda ethereum già vi ho detto si aspetta l'inizio del trading entro il 12 luglio quindi effettivamente la possibilità da parte degli enti di acquistare e vendere l'ethereum spot e gli analisti non si aspettano una vendita e un acquisto potente anzi potrebbe essere un po' più calma la situazione sto parlando di criptovalute ovviamente prendendo in considerazione bitcoin che ha avuto una crescita esponenziale dal lancio dell'etf potrebbe esserci un ethereum a 5 mila dollari ragazzi potremmo ritornare sul massimo storico e spero che rientrino fondi anche sugli altcoins quindi restate sintonizzati perché cercherò sempre di aggiornarvi passiamo alla notizia più importante inerente a crypto.com perché c'è quella possibilità ragazzi di ricevere di vincere 8 premi perché è l'ottavo anniversario di crypto.com e quindi è molto importante questo e lanceranno daranno la possibilità di vincere addirittura un intero bitcoin e c'è questo articolo viene spiegato come partecipare e vi invito a farlo ragazzi soprattutto se utilizzate l'applicazione nel caso in cui non lo facciate c'è un link qui in basso in descrizione insieme agli altri link di Bitget e tutti gli altri exchange avete sconti perché sono partner di queste piattaforme quindi per questo diciamo è importante usare questi link per ricevere sconti e anche premi come partecipare bisogna accedere all'applicazione di crypto.com link qui in basso andare nella sezione della campagna nella home page nella schermata iniziale e toccare campagna per l'ottavo anniversario ovviamente e cliccare poi su iscriviti eseguire almeno 88 dollari ottavo anniversario 88 dollari di acquisti netti in crow durante uno tutti i periodi di iscrizione di seguito quindi ci sono dei periodi di iscrizione di ingresso ragazzi il primo era il primo luglio non ho fatto il video mi dispiace per vincere 8888 dollari di crow oggi è 3 luglio e c'è possibilità di vincere i biglietti per la crypto.com arena però questo può essere che non vi interessa poi ci sono altri periodi 7 luglio 10 luglio 13 luglio 17 luglio 19 luglio 23 luglio e il quello più interessante ovviamente è un bitcoin lo so è il 13 luglio c'è tempo dal 13 fino al 17 luglio quindi dal 13 17 c'è tempo 10 giorni per ovviamente registrarsi io lo farò perché ragazzi non si sa mai ok come dice il famosissimo Chris Martin nella canzone di Fix You del Coldplay if you never try you'll never know quindi proviamoci e vediamo che succede e come al solito vi ricordo che tutti i link sono qui in basso in descrizione avete anche altri link inerenti quindi vediamo vediamo potrebbe essere che vinciamo e se qualcuno di voi vince fatemelo sapere nei commenti oppure contattatemi su instagram attenzione però ai profili finti ragazzi sono i profili veri sono solo qui in basso in descrizione vi prego non fatevi rubare fondi perché succede spesso altra notizia importante vediamo Kronos che effettivamente ragazzi ha approvato il burn di 50 milioni già l'ho detto era ufficiale però oggi è scattato l'ufficialità vera e propria perché è finito il proposal quindi saranno 100 milioni per adesso di crop bruciati in totale ovviamente la supply è enorme quindi non lo so che c'è bisogno di vedere burn burn per muovere il prezzo però lo stesso l'altra parte lo stanno facendo bene continuiamo così abbiamo bisogno di persone che entrano che facciano un po' di muovere il prezzo delle criptovalute in generale in verità perché anche per quanto riguarda bitcoin si si è mosso ma l'interesse non è tantissimo però questi sono momenti d'oro ragazzi perché quando abbiamo visto bitcoin passare da 15 mila qui in basso facevo i video dicevo ragazzi 15 mila dollari cavolo è un prezzo d'oro entrate anche qui potrebbe essere un prezzo importante per raggiungere poi non so 100 mila dollari per bitcoin e già potrebbe essere una percentuale interessante per quanto riguarda le nostre amate famosissime all coins vediamo che cro si trova su un supporto cruciale direi non bisogna perderlo non voglio che lo perda e sta tenendo per adesso già questo è positivo e i volumi sono bassi ragazzi non posso dirvi nient'altro perché non si è mosso molto e attenzione solo questo livello prossimo livello sono i 007 poi 005 004 spero che non ci arriviamo shiba inu anche stiamo su livello importante dalla salita che ha avuto forte siamo in forte discesa massimi e minimi decrescenti lung lo stesso non ne parliamo proprio quindi sono ci sono pochi nomi come solana che in verità solana è riuscita a fare tanto negli ultimi mesi ovviamente ha avuto una crescita forte con quello che è successo però le altcoins più famose non stanno performando a parte qualche meme coins o progetti che realmente hanno fatto percentuali detto questo ragazzi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate come al solito lasciate un mi piace un'iscrizione basta un click il gioco è fatto e se non siete iscritti ragazzi già l'ho detto iscrivete scusatemi noi ci aggiorniamo prestissimo con la prossima avventura ciao a tutti ragazzi e buona giornata grazie a tutti